Noi, di fraccione di MEP, noi chiamo che il governo paga il suo debito nella scuola. Non c'è opzione. Il ministro avisa che il nuovo Parlamento promete di un extra subsidio per la scuola. Noi non sono appena di extra subsidio, non sono appena di quello che il governo deve a scuola. Lo che sta in bucina nel governo, il governo deve a scuola. Lo che con noi il Parlamento ha vinto a approvare anni e anni fa che il ministro paga la scuola. Parla come, non c'è problema. Tocando i due punti di insegnanza libera, mi piaceva un rato, non so se mi mi è stato in bagre e paga. Noi, di fraccione di MEP, noi chiamo a guardare le insegnanza che il governo è libero nella Ruba. E si è quello che sta facendo, non c'è un'altra scuola che si sta. Ora, in prima, va a che continuare. Non c'è per la scuola che si ci sono appena di di noi. Noi non c'è cosa più damage. Questa è una strada di 4-6 anni. Grazie a tutti i nostri spettatori e a tutti i nostri spettatori e a tutti i nostri spettatori. Grazie a tutti i nostri spettatori. Grazie a tutti i nostri spettatori e a tutti i nostri spettatori. Grazie a tutti. Grazie a tutti.